Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale Serie TV Italia. Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Ciao a tutti amici di Serie TV Italia! Oggi voglio condividere con voi un momento davvero emozionante nel mondo dello spettacolo italiano. Ieri, Christian De Sica, non solo un famoso attore ma anche un affettuoso padre e nonno, ha condiviso sui suoi social alcuni momenti indimenticabili del matrimonio di sua figlia Maria Rosa De Sica, che ha unito il suo destino a quello dell'architetto Francesco Valentini. La cerimonia nuziale si è svolta nel suggestivo santuario della Madonna in Saletta, nel comune di Castel del Giudice, in provincia di Isernia, nel Molise. La bellissima sposa, Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, ha scelto questa incantevole location nel cuore dell'Abruzzo e del Molise per il suo matrimonio. Il giorno è stato reso ancora più speciale dalla presenza della piccola Bianca, la figlia di Maria Rosa e Francesco, nata lo scorso febbraio, che ha fatto diventare Christian De Sica un orgoglioso nonno. Maria Rosa ha indossato un elegante abito bianco tradizionale, mentre Francesco Valentini ha sfoggiato un impeccabile abito grigio con una cravatta bianca personalizzata. Emozionato, Christian De Sica ha accompagnato sua figlia all'altare e sui social ha condiviso momenti speciali di questa giornata indimenticabile. Siamo felici di condividere queste notizie straordinarie con voi, cari spettatori di Serie TV Italia. Se vi è piaciuto il video, lasciate un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale Serie TV Italia per non perdervi i prossimi aggiornamenti sulle notizie più interessanti del mondo dello spettacolo e delle serie TV. Un grande saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video! Ciao!